benvenuti il nostro obiettivo è quello di rendere la vostra pelle più elastica morbida e levigata senza interventi invasivi per raggiungere questo risultato abbiamo scelto la più moderna ed efficace tecnica di rigenerazione del collagene il fotoringiovanimento il collagene è una delle più importanti proteine del nostro organismo ed ha tra le sue funzioni quella di rendere la pelle più compatta ed elastica il naturale invecchiamento rallenta la rigenerazione del collagene a 20 anni la pelle è sostituita ogni tre settimane mentre a 50 solo ogni 9 settimane diventando meno elastica inoltre lo stress il fumo l'inquinamento lo stile alimentare il sole accelerano l'invecchiamento della nostra pelle distruggendo le fibre di collagene presenti in essa e predisponendo la comparsa delle rughe le rughe sono una conseguenza della diminuzione dell'elasticità della pelle e non solo dell'invecchiamento questo processo si può contrastare rigenerando più rapidamente il collagene studi scientifici dimostrano che l'irraggiamento della pelle con luce rossa a lunghezza d'onda a 633 nanometri stimola l'attività dei fibroblasti moltiplicando fino a quattro volte la produzione di collagene collagenol 633 è un particolare composto in gel in colore a base di acido ialuronico appositamente studiato ed elaborato per agire in combinazione con young il nuovo apparecchio per l'irraggiamento a 633 nanometri aumenta la penetrazione e l'effetto naturalmente rigenerante della luce nel processo di fotoringiovanimento il funzionamento del macchinario è completamento automatico e gestito da speciali card personalizzate per la precisa necessità individuale la sessione è assolutamente piacevole rilassante e non presenta controindicazioni potete selezionare il trattamento più adatto alla vostra pelle sottoponendovi al semplice test gratuito gestito dalla scheda elettronica che trovate su questo espositore al termine del test vi sarà consigliato il programma più adatto ed efficiente relativo al vostro profilo esistono quattro programmi a seconda della condizione della vostra pelle ogni programma prevede potenze sequenze e tempi differenziati di sessione in ogni caso noterete evidenti miglioramenti della vostra pelle già nel corso dei primi 21 giorni vedete come pochi secondi collagenol 633 è stato applicato soprattutto sulle parti dove la del trattamento richiede maggiore efficienza zona peroculare naso labiale e collo collagenol 633 è un gel in colore e inodore contiene acido ianuronico ed uno special attivatore che reagisce in combinazione con la luce emessa dalla young questo permette alla luce di avere ancora maggiore efficace penetrazione i risultati che si ottengono fin dalle prime applicazioni sono strabilianti raccomandiamo però di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sul manuale d'uso presente nella confezione e naturalmente di completare il primo ciclo di 12 applicazioni nel corso di 21 giorni durante i quali si consiglia anche una dieta ricca di vitamina c necessaria alla sintesi del collagene oggi con young puoi scegliere davvero un aspetto più giovane una pelle più elastica morbida e levigata senza lunghe collagenol 633 e young sono la soluzione smart grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti